De-bloating. Ogni anno vi parlo di questa procedura e di come il grandissimo Chris Titus Tech migliori sempre di più la sua utility che serve appunto a praticare in sicurezza e in maniera super semplice questa procedura. Ma vediamo un pochettino di iniziare per ordine e introdurre anche quelli nuovi a questo mondo incredibile. Ma quindi, che cos'è il de-bloating? È una procedura che serve a eliminare i bloatware. E cosa sono i bloatware? Semplicemente quell'insieme di utility, funzionalità o semplicemente di telemetria, quindi di controllo da remoto, che Microsoft inserisce all'interno del suo sistema operativo, in questo caso Windows, e che magari non interessa all'utente finale. Da Windows XP a Windows 11 i bloatware sono aumentati in maniera sostanziale e anche negli ultimi anni abbiamo iniziato a vedere pubblicità all'interno dei sistemi operativi di casa Microsoft. Quindi hanno guadagnato grande attenzione le tecniche di de-bloating, che servono appunto a eliminare un po' tutta questa spazzatura e far sì che l'utente finale possa riprendere controllo del proprio sistema operativo. Però ovviamente c'è da dire che questa tecnica all'inizio era molto complessa e richiedeva tantissimi passaggi. Feci uno dei miei primi video in collaborazione con Overvolt a riguardo ed effettivamente il tutorial per attuare la limitazione soltanto della telemetria di Microsoft all'interno di Windows era veramente complesso, richiedeva un grandissimo numero di passaggi. Ed è per questo che dobbiamo dire grazie a Chris Titus Tech, un canale che si occupa di sistemi operativi, di open source e di tante altre cose. Perché lui, anche grazie alla sua community, è riuscito a creare una Winu utility veramente fantastica per attuare non solo il de-bloating ma anche altre funzionalità comodissime. Attualmente su GitHub è la seconda utility al mondo più utilizzata per il contesto di PowerShell. Ma andiamo per ordine. Ora, a cosa serve fare de-bloating? Prima di tutto ci tengo a dire che il de-bloat è una tecnica del tutto facoltativa. Non siete obbligati a farla, però per gli utenti che vogliano ripulire un pochettino il sistema operativo, mantenere maggior controllo sulle informazioni che vengono inviate a Microsoft o semplicemente rimuovere funzioni che non vogliano all'interno del proprio computer, effettivamente è qualcosa di molto utile. In termini prestazionali ci possono essere dei miglioramenti, diciamo di sì e di no. Nel senso che il discorso è sempre lo stesso. Se il vostro processore dovesse essere sovraccarico quando gli chiedete di fare qualcosa, effettivamente il de-bloating potrebbe aiutarvi perché riduce il numero di processi in background che il sistema operativo avrà quando magari giocate o lavorate. Quindi il concetto è questo. Se il vostro PC è un po' vecchio potreste avere dei benefici prestazionali. Per tutti gli altri invece principalmente l'utilizzo del de-bloat sarà di praticità, quindi rimuovere un po' di spazzatura, riprendersi controllo e tutte le cose che vi ho appena detto. Potrebbero esserci anche dei benefici marginali in termini di latenza per quanto riguarda il gaming, ma non credo siano influenti. Comunque ad ogni modo non potrei neanche testarlo perché alla fine dipende completamente dall'interesse della vostra macchina. E anche se magari io possa dimostrare o meno dei benefici di questa pratica in termini puramente prestazionali, quindi FPS e latenza, di per sé potrebbe non essere lo stesso per voi perché avete magari un PC simile ma non è esattamente uguale o un contesto comunque diverso. Prima di iniziare però, doverosissima lista di premesse che dovete seguire a menadito. 1. Il tool di Crystai2Stack è completamente sicuro e potete averlo gratuitamente utilizzando la riga di comando da PowerShell oppure potete donargli 10€ per avere l'executable, quindi semplicemente il programmino dove premi due volte e lo avvii. 2. Il de-bloatting è una tecnica che va fatta soltanto su macchine pulite. Se avete un PC già avviato da anche soltanto qualche mese con installazione e cose così potreste riscontrare delle incompatibilità. Pertanto fatelo solo se avete una macchina fresca da de-bloatare. Che termine terribile. 3. Se ne capite di codice, siete di programmatori o semplicemente volete supportare il progetto potreste provare a fare una piccola pull request sistemando alcune delle cose che vengono elencate su GitHub come non-issues e robe del genere. Ma penso che questo per la maggior parte di chi mastichi il codice effettivamente sia un po' superfluo. Ok, vediamo un attimino di utilizzare questa utility di Crystai2Stack. Quindi, per avviarla ci sono due modi. O date 10€ al sito di Crystai2Stack, supportate il progetto sia moralmente che in termini economici e vi recuperate l'exec, che semplicemente vi richiederà due click per avviarlo. Oppure, se non volete pagare e avere tutto in maniera gratuita, vi basterà seguire questa procedura ufficiale. Nella barra di ricerca di Windows scrivete PowerShell e avviatelo assolutamente come amministratore. Questo è vitale per il corretto funzionamento del programma. Dopodiché, nella prima riga di codice inserite questa frase, che servirà semplicemente a recuperare quella che è la utility direttamente dal sito di Crystai2Stack in maniera pulita e lecita. State tranquilli, questi programmi sono molto controllati e il codice è pubblico e revisionato. Fatto questo, premiamo invio e semplicemente si avvierà quella che è l'utility di Crystai2Stack. All'interno della stessa ci sono stati molti miglioramenti negli ultimi anni. Rispetto alle versioni precedenti è veramente tanto più completa. La prima sezione di questo programma è dedicata alle applicazioni utili. Quello che vedete qua davanti è un package manager, fondamentalmente come funziona. Anziché andare a manina a recuperarvi singolarmente tutti i programmi sui siti dei produttori, un package manager vi permette semplicemente di recuperarli con riga di comando. In questo caso abbiamo anche un'interfaccia grafica, cioè quella del programma che avete davanti, che effettivamente vi permette di spuntare una semplice casellina per recuperare il programma. Ma Ale, questa cosa sicuramente è uno scam tipo Softonic che ci fa i danni al computer? No, semplicemente il package manager rende molto più semplice recuperare un programma senza l'utilizzo di un browser, ma alla fine è esattamente la stessa cosa. Come faccio a saperlo? Beh, è semplice. Vedete tutti quei punti di domanda di fianco a tutti i programmi che sono elencati qui? Vi diranno la fonte ufficiale da cui viene scaricata. I package manager sono sicuri ed è semplicemente il modo in cui si recuperano i programmi da sempre su Linux. È facilissimo, comodissimo e soprattutto vi risparmia tantissimo tempo, con questa interfaccia grafica in particolare, perché vi permette di installare tantissimi programmi insieme senza poi dover andare a prenderli uno a uno singolarmente. Si parla di decine di minuti risparmiati. Oltre a questo, la cosa comoda di un package manager, come potete vedere nella parte alta del programma, è che ci sono varie opzioni. Il primo tasto vi permetterà di installare o aggiornare i programmi selezionati, quindi semplicemente premete su MSI Afterburner e ve lo installerà. Se invece lo avete già installato, sempre mediante l'utility o Winget perlomeno, vi permetterà di farne un upgrade, semplicemente portandolo alla versione più aggiornata possibile. Il secondo comando permette di fare un upgrade all. Questa è una cosa comodissima. Quante volte vi trovate a dover aggiornare manualmente i vostri programmi, dovete riscaricarli, dovete utilizzare il tool interno, una rottura di palle, no? Ecco, invece se voi scaricate le cose con Winget e con un package manager, successivamente vi basterà premere su Upgrade All e lui aggiornerà tutti i programmi installati mediante Winget direttamente da lì. In realtà le ultime versioni di Winget dovrebbero anche essere capaci di aggiornare i programmi non installati col package manager, ma non sono sicuro di questa cosa, quindi di per sé prendetela con le pinze. Però la cosa interessante è che se, insomma, utilizzate quest'utility, dopo potrete aggiornare molto tranquillamente tutti i vostri programmi con letteralmente due click. Infine, in fondo, nella riga potete vedere che c'è l'opzione Preferred Cioccolati. Cioccolati è un altro package manager, ve ne ho parlato tantissimo su questo canale, così come quello di Winget, semplicemente entrambi hanno un'offerta veramente ampia, Cioccolati ha un'offerta leggermente più ampia, mi sembra, sui pacchetti secondari, quelle cose un po' più da smanettoni, quindi magari potreste preferire Cioccolati o semplicemente magari il vostro PC è già controllato dallo stesso package manager, insomma avete tanti programmi installati mediante lo stesso, Cristite2Stack ha messo l'opzione. Quindi di per sé potete usare Cioccolati o Winget, in base alle vostre preferenze, personalmente vi dico che Winget è super completo per il 99% di utenti. La seconda sezione del programma invece si chiama Tweaks ed è quella che effettivamente rappresenta l'operazione di debloating. Qui potremmo effettivamente rimuovere parti negative del nostro sistema operativo o che comunque non vogliamo all'interno dello stesso. Ci sono più modi di approcciare questa cosa. Se siamo degli utenti abbastanza esperti e sappiamo quello che vogliamo, possiamo selezionare manualmente le cose che vogliamo rimuovere dal nostro sistema operativo e poi semplicemente far girare il programma per eliminarle. Questa è una parte che effettivamente andrà a intaccare alcune parti del sistema operativo e questa cosa potrebbe compromettere, come vi dicevo prima, installazioni non pulite, in quanto magari alcuni programmi si appoggiano su determinate funzioni. Pertanto io vi raccomando nuovamente di utilizzare soltanto build pulite. Come potete vedere i tweak di debloating sono divisi in due parti. C'è una zona che diciamo è quella sicura, quella che effettivamente andrebbe fatta per creare un debloating di buon livello e poi ci sono quelle un pochettino avanzate che personalmente non raccomando a chiunque stia guardando questo video per la prima volta o comunque non abbia esperienza nel mondo del debloating o insomma abbia grande interesse per il proprio pc perché potrebbe causare delle incompatibilità più complesse. Ad ogni modo se non siete sicuri di quello che stiate facendo, in alto ci sono due opzioni molto simpatiche, standard e minimal. Standard applicherà il debloating base che Crystitis Tech in persona attua su tutti i suoi pc e il vero e proprio debloating avanzato utile per tutta l'utenza. Potrebbe causare qualche piccola incompatibilità ma di per sé sono 4-5 anni che si testa questa utility quindi sono state aggiustate molte molte cose. Se invece volete andare sul sicuro ed eliminare veramente soltanto il minimo indispensabile vi basterà premere su minimal. Dopodiché nella parte bassa premete su Run Twix e semplicemente quello che succederà è che verranno eliminate queste parti dopo un breve processo. Potete anche osservare il processo semplicemente guardando quello che succede all'interno di PowerShell o del terminale di comando. La terza sezione del programma si chiama Config e personalmente non vi raccomando di utilizzarla semplicemente perché le opzioni contenute al suo interno sono di configurazione del sistema operativo e sono molto avanzate e secondo me al 99% chiunque stia guardando questo video per conoscere il mondo del debloating o comunque questa utility non ha interesse nell'utilizzare questa parte. La lascerei in mano soltanto agli utenti più esperti che sicuramente saranno agevolati nelle proprie azioni dall'utilizzare questa parte. Però di per sé non è una cosa utile. Lasciate stare la terza sezione se proprio non siete appunto persone che sanno quello che stanno facendo. Che non sanno quello che stanno facendo. Vabbè l'italiano oggi è andato a farsi benedire. Che stiano. E ciao. Quarta sezione invece riguarda gli aggiornamenti di Windows. Semplicemente il debloating arriva fino a qui. Cioè potete decidere di eliminare in maniera più o meno aggressiva gli aggiornamenti di Windows e ovviamente anche tutte le loro conseguenze perché sappiamo che molto spesso sono immaturi. Ci sono tre opzioni. Con l'opzione centrale avrete un approccio veramente molto sicuro. Quello che fa è semplicemente ritardare di quattro giorni gli aggiornamenti di sicurezza per essere sicuri che siano aggiornati al meglio possibile e di due anni gli aggiornamenti non necessari. Quindi di per sé le feature secondarie, tutte quelle cosine tipo copilot, non le volete potete mandarle avanti di due anni semplicemente. L'opzione alla sua destra invece è molto molto più aggressiva e disattiva anche gli aggiornamenti di sicurezza. Questa io non ve la raccomando e Chris Titus Tech stesso dice di non farlo. Personalmente gli aggiornamenti di sicurezza sono importanti ragazzi. Piuttosto fate quello centrale se proprio volete avere più controllo sui vostri aggiornamenti di Windows. Qualora scegliate di utilizzare una delle due opzioni, la prima invece vi servirà per tornare allo stadio zero, cioè a come Windows è stato pensato per funzionare, con gli aggiornamenti che vengono installati nel momento in cui sono disponibili. Quindi di per sé se non vi piace la situazione in cui siete dopo aver utilizzato uno dei due comandi più a destra, effettivamente vi basterà il primo per risolvere. Infine la quarta sezione è la vera e propria novità ed è molto molto interessante. Si chiama Micro Win e a cosa serve? A praticamente iniettare tutto quello che abbiamo appena fatto all'interno di un ISO di Windows 11. Ora, mi avete visto parlare negli anni di qualche release di Windows 11 un po' dubbia e nel tempo ho visto anche qualche contenuto specialmente anglofono in cui si parla di queste versioni di Windows 11 alternative ridotte all'osso con il tweaking per le latenze, per il gaming e bla bla bla. Cose che sappiamo essere utili fino a una certa estensione ma soprattutto fatte da utenti di cui non conosciamo effettivamente le intenzioni. Siccome Cristite2Stack è una persona con un grandissimo riferimento nel mondo dell'open source e soprattutto pubblica il suo codice e tutto quanto, è molto interessante una funzione del genere. Fondamentalmente come funziona? Voi scaricate la vostra ISO da Microsoft oppure se ne avete già una, semplicemente la posizionate come punto di scratch all'interno del programma di Micro Win e questo qui andrà ad applicare il processo di debloating direttamente all'interno dell'immagine di Windows. Cosa vuol dire? Che fondamentalmente l'installazione sarà poi molto più pulita senza dover effettuare il debloating ogni volta. Avrete poi la vostra chiavetta, in questo caso suggeriscono di utilizzare Convoy per crearla e oltretutto è tutto automatizzato e potrete installare questa ISO di Windows pulitissima con il debloating già applicato e con appunto una velocità di installazione molto maggiore, si parla di meno di 5 minuti, che vi permetterà di avere Windows migliore. Tutto qua. Secondo me è uno strumento veramente molto utile più che altro perché anche durante il processo di installazione ci sono alcune cosine molto interessanti. Per esempio possiamo iniettare a mano i driver, questa è un'opzione principalmente per utenti più esperti, oppure possiamo recuperarli dal sistema operativo in uso. Cosa molto interessante perché se per esempio semplicemente vorrete reinstallare Windows in maniera pulita, potete prendere tutti i driver e averceli già pronti. Questo velocizza di tanto, ma veramente di tanto, il processo di reinstallazione di Windows, quindi un'eventuale formatazione. E oltretutto servono veramente pochissimi clic perché funzioni. Se non siete sicuri di questo strumento e volete approfondirlo ed essere sicuri di quello che c'è dentro, Chris Titus Tech ha un video in cui analizza il codice passo passo, guarda le pull request, cose varie, su questo strumento in particolare chiamato MicroWin. Onestamente è qualcosa di incredibile, più che altro perché vi permette di avere una ISO di Windows 11 come quelle che vengono definite ISO da gaming, ma di cui potete fidarvi perché effettivamente il codice è pubblico, revisionato, tante persone ci hanno lavorato sopra, Chris Titus Tech non è uno scammer, siamo sicuri di chi sia. Insomma, è una bella situazione. Se volete provare, ovviamente questa è la quarta sezione, molto figo. E con questo siamo arrivati alla fine dell'operazione di The Bloating 2024, che onestamente penso rimarrà valida ancora per un bel po' perché l'ultimo aggiornamento è di settembre 2024, quindi perfetto veramente come timing. Siamo usciti solo poco dopo, Chris Titus Tech sei sempre il mio eroe, ragazzi ricordatevi di prendere in considerazione la possibilità di donare, anche se magari non volete utilizzare Lex, semplicemente quei 10 dollari in più per supportare una persona che sta facendo veramente tanto, tanto, tanto per il mondo dell'informatica, soprattutto con sistemi operativi ostili come quelli di Windows. Se volete appassionarvi al mondo di Linux, ha anche tantissimi video a riguardo, parla anche di sicurezza informatica, veramente un grande. Insomma, se volete, date gli sti 10 dollari, secondo me vale la pena, io l'ho fatto. Ad ogni modo ragazzi, per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo, vi siete stati su Modern Tech, fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video. Salusa!